Ordinanza di Sgombero e interdizione al passaggio per l'autoparco di Sant'Anna che da una settimana presenta delle crepe che sono state monitorate e oggi hanno richiesto questa decisione sindaco. Sì, noi abbiamo avuto la prima sollecitazione ad intervenire venerdì scorso da parte del custode dell'autoparco e abbiamo fatto dei rilievi e abbiamo monitorato giornalmente vedendo che le crepe e i cedimenti del piazzale davanti all'autoparco si accentuavano sempre di più. Per cui abbiamo inteso innanzitutto di far sgomberare dei mezzi presenti nell'hangar dell'autoparco e interdetto il passaggio e la sosta ai dipendenti. Dopodiché stiamo mettendo in monitoraggio l'intera area con oscillometri, con sensori e con metodologie più raffinate come i droni per vedere se questo scivolamento e queste crepe del piazzale si accentuino ma soprattutto con quale velocità per poi prendere le decisioni del caso. Abbiamo voluto anche avvertire della situazione la protezione civile regionale, il prefetto e i vigili del fuoco. Ognuno ovviamente farà la sua parte, noi saremo attenti prevalentemente se non esclusivamente per la incolumità delle persone. I problemi del dissesto idrogeologico sono antichi. La veloce urbanizzazione che negli anni 70 e 80 ha cambiato, lo skyline della nostra città, la morfologia della nostra città, ha contribuito sicuramente a provocare dei problemi e dei danni e a questo punto possiamo agire in maniera preventiva fino ad un certo punto ma soprattutto prevenire celermente le emergenze. Questo è quello che possiamo fare e che stiamo facendo.